Allora io ho due amici questa sera dal pubblico che sono anche due cantanti di cartoon band o tre, due direttori di festival, io chiamerei su un palco con me se possibile direttamente dal mondo dei poveri di sodio, Andrea Lucchi! L'applauso di Pescara Comics! E l'altro amico, ben arrivato Andrea! Il microfono ci arriva, ci arriva, eccolo qui E sul palco con noi l'altro amico del Pescara Comics ma è anche amico mio da tanto e del Bim Bum Bum Signore e signori, direttamente dalla flotta di Vega, Paolo Guanni! Allora io ho chiamato questi amici perché con loro vogliamo condividere questo momento che rappresenta un po' quei cartoni anni 70-80 ma rappresenta un po' quei cartoni che tra un po' Cristina ci racconterà meglio ci hanno fatto diventare quelli che siamo adesso e ve lo posso dire da qua Siamo bellissimi! Siamo bellissimi! Scala le mani! Sulle mani di scala! Allora io ho chiamato! Allora io ho chiamato le mani! Non so sub Story Allora io ho chiamato la mani! Allora io ho chiamato l'ho chiamato quello che si trova Vola Sinto un patate Sinto un peggio Vigia no mare Se sei un pericolo Prega il cammino La morte Ninguém c'è un peggio Vola 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 Le mani al cielo! Andi! Uvramo, uvramo! 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 Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti